Il concorso di matematica è stata un'occasione per approcciarci alla logica della matematica con uno spirito veramente entusiasta. I bambini hanno gareggiato in modo non competitivo ma anche aiutandosi l'uno con l'altro. Questo ci ha permesso di vedere la matematica non come uno scoglio insormontabile ma come qualcosa per cui divertirsi e di imparare divertendoci. E' stato semplice riuscire ad affrontare il discorso delle espressioni perché i bambini hanno capito subito quale fosse la procedura e il meccanismo che c'era dietro. E anche per la parte di geometria riuscire a capire che cosa vuol dire l'estensione o l'aria di una figura è stato veramente un gioco da ragazzi. I bambini anche quelli con delle fragilità o delle difficoltà per la matematica in realtà non l'hanno vissuta come qualcosa di discriminante ma come un'occasione per integrarsi l'uno con l'altro.